allora siamo pronti per provare a fare la zipline per mandare giù legna poi dopo senza video andiamo giù con l'imbrago che noi ma non si può fare quindi non diciamo non facciamo vedere allora abbiamo attaccato lì nell'albero il cavo che va giù fino a giù nel trattore adesso col trattore andremo un po ancora più avanti e metteremo in pretensionamento il cavo praticamente il concetto è montare la carucola mettere in tensione il cavo con attaccate le appunto una fascina di lens questo magicamente per gravità scenderà questo è tutto da vedere c'è una prova messa in tensione allora secondo me devi stare più là perché sennò prende lì adesso vado per la carucola la per la carucola della catena allora noi adesso abbiamo attaccato la catena sulla carucola il cavo quando metteremo in tensione il cavo il tronco si alzerà e scenderà questa è la teoria adesso vediamo la pratica avanti adesso comincia a tirare però un po dovrebbe dico dovrebbe condizionale alzarsi condizionale sempre da obbligo teorie pratica vediamo se ad un certo punto ad un certo punto la teoria si equipara alla semipratica abbiamo un problema di scorrimento abbiamo un problema di scorrimento perché perché la pianta tocca dietro abbiamo ecco 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 la teoria è la pratica quasi 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 abbiamo esagerato con abbiamo esagerato col carico forse bene proviamo più in su e con meno roba stiamo preparando il secondo carico abbiamo preparato secondo carico siamo pronti per trovare tira i primi movimenti sta per partire bene 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 è un'attività che va pianificata organizzata e pianificata al meglio è un'attività che va venire Grazie.